Il noto cardiologo pratese Giorgio Galanti indagato per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. L'entrata rapina e banca in quattro armati di pistola entrano nel bagno dall'orario di chiusura. Sicurezza a San Giusto, il sindaco replica, ha incontrato i cittadini più di una volta, pronto ad aprire un tavolo con le forze dell'ordine. Monitorare in tempo reale gli spostamenti dell'autobus ad oggi si può grazie all'app Teseo. Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Anomalie nel tracciato dell'elettrocardiogramma, aritmie ventricolari che potevano essere delle avvisaglie, dei segnali della patologia che poi sarebbe costata la vita al capitano della Fiorentina Davide Astori. A nove mesi dal decesso del calciatore, la procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati due medici. Uno è Pratese, il professor Giorgio Galanti, ordinario di medicina interna all'ospedale di Careggi e fino a pochi giorni fa direttore del Dipartimento di Medicina Sportiva. L'altro medico è di Cagliari, dove Davide Astori aveva giocato prima di arrivare a Firenze. Per entrambi i medici l'accusa sarebbe di omicidio colposo. I due medici, entrambi esterni alle società sportive, incaricati di certificare l'idoneità degli atleti, non avrebbero eseguito in due occasioni quelle indagini aggiuntive che le prove da sforzo avrebbero richiesto. La cronaca tentata a rapina nel tardo pomeriggio di ieri alla banca intesa di Via Bagatti. Quattro malviventi armati di pistola sono entrati nella filiale passando dal bagno, particolari nel servizio di Marco Manzo. Sono entrati in quattro col volto coperto, uno dei quali armato di pistola e dopo aver minacciato i dipendenti e i clienti presenti hanno tentato di rapinare la banca senza riuscirci. È quello che è successo verso le 16 alla filiale della banca intesa di Via Bagatti a Chiesa Nuova. I malviventi sono entrati nella banca passando dal bagno dopo aver segato le sbarre e forzato una finestra. Una volta nell'istituto di credito hanno minacciato i presenti facendoli sdraiare a terra sotto la minaccia dell'arma, puntando al bancomat. Il sistema di apertura temporizzato però deve aver rovinato i piani dei ladri, che forse per timore di essere sorpresi sul fatto dall'arrivo delle forze dell'ordine sono fuggiti senza riuscire a racimolare nulla. Scosso e sotto sciocchi il personale della banca. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ritrovato una piccola scala e una ventosa per vetro usata dai banditi per accedere nella banca. È probabile che i malviventi avessero effettuato un sopralluogo nella notte per segare le sbarre della finestra e poter così agire più velocemente al momento dell'irruzione. I militari hanno visionato le immagini girate dal sistema di sicurezza e si sono messi sulle tracce dei quattro. E parliamo adesso di sicurezza a San Giusto. Nel corso della trasmissione chiedilo al sindaco andato in onda ieri sera. Il primo cittadino Matteo Biffoni ha replicato alle lamentelle dei residenti a cui si è riunito anche il parroco Don Helmut. Sentiamo. Siamo qui. Come fanno altri cittadini? Quando c'è una situazione basta chiamarci. Spare strano che bisogna aspettare sempre le telecamere. Il sindaco Matteo Biffoni replica così alle dure accuse dei residenti della zona di San Giusto che la scorsa settimana hanno protestato ai microfoni di TV Prato per denunciare il degrado del quartiere. Spaccio, prostituzione, atti vandalici sono fenomeni con cui gli abitanti del posto, stando ai loro racconti, si trovano spesso a dover fare i conti. Una situazione complicata e difficile che anche il parroco di San Giusto, Don Helmut Zeliga, ha voluto descrivere per richiamare l'attenzione delle istituzioni e unirsi al grido d'allarme dei fedeli. Ma il primo cittadino difende il lavoro di contatto col territorio portato avanti dall'amministrazione e invita i cittadini a denunciare con più forza. Nessuno ce l'aveva mai fatto presente con queste forme. Lo stesso Don Helmut, io avevo parlato qualche giorno prima, l'abbiamo visto alla Santa Barbara, alla festa patrona dei pompieri, chiedendo come va, come era la situazione e non ci aveva accennato nulla. Le telecamere ogni tanto accendono gli animi di molti. Lo stesso vale per i cittadini. A San Giusto credo di esserci stato negli ultimi mesi più di una volta. Siamo andati con i titolari dei circoli della zona dal prefetto qualche giorno fa. Abbiamo fatto gli incontri ai cittadini. Sì, certo, qualcuno ci ha segnalato qualcosa, ma l'apocalissi raccontata mi sembra un po' troppo. Quindi a lei non risulta una situazione così allarmante? Non risulta alle forze dell'ordine, non a me. Lo dico a tutti i cittadini. Guardate, se ci sono delle situazioni complesse, siamo noi prima a volerle risolvere. Siamo noi interessati, io, la prefetta, il questore, il colonnello Carabinieri, siamo il comandante della polizia municipale. Siamo a disposizione dei cittadini. Ci mancherebbe altro. Trovo, come dire, abbastanza naif, lo dico così, che durante le telecamere si dice che ho paura addirittura di ritorsioni e si dice alla telecamere. Diciamo alle forze dell'ordine, diciamo alle istituzioni. Noi si interviene, ci mancherebbe altro. Biffoni, sempre durante la trasmissione chiedilo al sindaco, si dice infine pronto ad aprire un tavolo di discussione con forze dell'ordine abitanti della frazione, che si aggiungerebbe al confronto puntuale con i referenti della zona già in atto da diverso tempo. Una soluzione prospettata dallo stesso Don Helmut, che si è reso disponibile a fare da intermediario per la comunità dei parrocchiani. Che sulla richiesta da parte di Don Helmut di un eventuale tavolo tra le istituzioni... Quando vuole, ma se mi scrive, ma lo facciamo fisso. Abbiamo incontrato tantissimi cittadini, c'è un elenco di comitati con cui io ho ricevuto, ho ricevuto la prefetta, è disponibilissimo, è una persona da questo punto di vista molto attenta. Come dire, non c'è problemi, non importa Don Helmut, qualcuno mi manda una mail, una telefonata, io sono a disposizione. È mio interesse, è interesse della città che ci sia tutto tenuto sotto controllo. Il tetto ventilato di un'abitazione disposta su due piani ha preso fuoco ieri sera, è successo poco dopo le 19 in via Tobbianese. Le fiamme si sono sviluppate molto rapidamente a causa della presenza di materiale isolante e combustibile. I vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto sono riusciti a contenere i danni, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone che erano presenti nell'edificio. Le cause dell'incendio, che è interessato una superficie di circa 15 metri quadrati della copertura dell'immobile, sono in via di accertamento. I vigili del fuoco non escludono che l'incendio sia da attribuirsi al surriscaldamento della canna fumaria. Se lo chiedono spesso i passeggeri alla fermata, tra quanti minuti arriva l'autobus con l'applicazione Teseo, da oggi è possibile saperlo in tempo reale consultando il proprio cellulare. Monitorare in tempo reale gli spostamenti dell'autobus che si sta aspettando e sapere fra quanti minuti arriverà alla nostra fermata. È possibile da oggi grazie all'app Teseo, lanciata la scorsa estate da CAP, assieme alle prime sei paline intelligenti e adesso potenziata con le informazioni in tempo reale, che possono essere consultate anche dal sito internet. Per usufruire del servizio sul proprio cellulare è necessario scaricare la app Teseo oppure aggiornarla per caricare le nuove funzionalità. Tutta la flotta di CAP, urbana ed extraurbana, ma anche gli autobus in marcia nei territori serviti dalle altre società del gruppo CTT Nord, Pistoia, Empoli, Pisa, Lucca e Livorno, sono adesso collegati e aggiornano costantemente la loro posizione permettendo una lettura istantanea degli spostamenti sulla rete. Abbiamo imparato con la LAM ad andare alla fermata senza guardare l'orario perché la frequenza è alta e quindi l'autobus dopo qualche minuto transita. Sui servizi a extraurbano, che ovviamente è un servizio che ha una frequenza molto più alta e che quindi ha transiti media ogni 30 minuti, questo è un sistema che dà la possibilità di vedere fra quanti minuti passa l'autobus, lo posso vedere dall'applicazione sul telefono, lo posso vedere sul web. CAP potenzierà anche le paline intelligenti. Alle sei postazioni presenti nel comune di Prato, a breve si aggiungeranno le due fermate all'ospedale della LAM arancione e della LAM blu. Nel 2019 ne saranno poi installate altre sette a Prato e provincia, ogni comune pratese ne avrà almeno una. È chiaro che l'investimento è stato importante sia in risorse e in risorse umane, quindi c'è stato un impegno di tutto il personale che ha gestito questa fase di conoscenza, di messa a punto e oggi siamo molto soddisfatti. Il sistema si rivelerà utile anche per verificare il rispetto del contratto di servizio con gli enti locali che attualmente, ad esempio, fissa al 95% il tetto minimo di corse effettive rispetto a quelle previste. Più dati abbiamo e più è facile per noi capire dove ci sono criticità, dove possiamo intervenire, dove si può migliorare, efficientare, perché ormai si sa che le risorse sono difficili da aumentarle, ha molto più senso, è molto più facile a questo punto cercare di ottimizzare il servizio. Ha aperto al pubblico la nuova galleria di Palazzo Comunale, completamente riallestita e arricchita di 210 nuove opere della collezione di Palazzo Pretorio che finora erano custodite nei depositi di Palazzo Valentini. Le visite guidate e gratuite organizzate lo scorso fine settimana hanno visto una massiccia presenza di cittadini. Posti esauriti sabato e domenica pomeriggio. In tanti hanno varcato la soglia del Palazzo Comunale per ammirare il nuovo allestimento che si sviluppa attraverso 14 sale del primo piano. La galleria comunale è visitabile a ingresso gratuito il sabato e la domenica e quindi anche il prossimo fine settimana. Le visite guidate si tengono alle 10 e alle 11.30 e alle 15 e alle 16.30. La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a visite palazzo comunale chiocciolacomune.prato.it oppure chiamando il numero di telefono 0574 1836220. Tour editoriale alla scoperta dei capolavori della Chiesa dello Spirito Santo. È stata presentata infatti la nuova guida cartacea dalla storica dell'arte Virginia Barney. Il volume sarà illustrato alla città venerdì prossimo. 96 pagine ricche di storia, arte, bellezza e fede chiacciandono le luci su una chiesa rimasta un po' nell'ombra, quella dello Spirito Santo. Si intitola Umbratilis Ecclesia, la nuova guida della storica dell'arte Virginia Barney, pubblicata da Claudio Martini, editore, che racconta con dovizia di particolari il patrimonio culturale custodito nella parrocchia di Via Silvestri. Un gioiello incastonato tra gli antichi palazzi del centro, ma sconosciuto ai più, che all'interno della guida viene descritto nei suoi numerosi trascorsi e nei tanti cambiamenti subiti in oltre 700 anni di vita. Occorreva uno strumento che avesse le due caratteristiche e della chiarezza scientifica, della precisione scientifica nello studio delle fonti della storia della chiesa e nello stesso tempo fosse in qualche modo uno strumento utilizzabile dalle persone che vengono a visitare questa chiesa, sia ai parrocchiani, alle persone della zona ovviamente. Il testo prevede una prima parte introduttiva in cui si narra la storia della chiesa fino ai giorni nostri, seguita poi da una seconda parte più dettagliata con le schede illustrative delle opere. Gioielli di straordinaria bellezza firmati da Filippo Lippi, Jacopo Dicione, Benedetto D'Ammaiano, Paolo degli Organi, Niccolò Latini e Santi di Tito. Una chiesa che nasce come chiesa conventuale dell'Ordine dei Sebi di Maria e che alla fine del Settecento invece viene riconosciuta come parrocchia dello Spirito Santo, come la conosciamo ancora oggi. Il volume arriva dopo un massiccio intervento di recupero e restauro portato avanti negli anni scorsi dalla ditta Fedeli di Firenze, che ha permesso di scoprire e riportare alla luce gli affreschi di Matteo Bertini del 1822 nascosti da uno strato di intonaco bianco. Ad oggi sono state ripristinate le decorazioni sulle due pareti della navata e sull'arco trionfale. Il prossimo step prevede di rendere visibili quelli dell'abside e di procedere poi al restauro dell'intero complesso di affreschi. La chiesa sarà aperta e visitabile sabato 15 e domenica 16 dicembre. E passiamo adesso al calcio dilettanti. In eccellenza rallenta lo Zenit Taudax, mentre in promozione il Viaccia batte il luco e si porta al quarto posto in classifica. Ce ne parla Massimiliano Masi. Il Grassina si aggrappa al primato in classifica e passeggia sul campo delle Badesse, dove si impone per 3 a 0. Una partita dominata dalla squadra del presidente Zepponi, che vince e convince. A cinque lunghezze dal vertice resiste il Poggi Bonsi, che rimonta a doma la Rignanese per 3 a 1. I senesi, insomma, non mollano la presa. Ormai è lotta a 2 per la vittoria del campionato. In zona playoff, pareggio per la Zenit Taudax, che impatta 1 a 1 sul campo dell'Antella. Un pareggio al termine di una partita bruttina, senza troppi acuti. Pareggio anche per la Baldaccio Bruni, che riesce a impattare 2 a 2 con il Porta Romana. In rialzo anche le quotazioni della Valdarno, che riesce a superare di misura il Signia. In promozione, la Lampo vince lo sconto al vertice con la Pontremolese e accorce il gap in classifica. Decide una zuccata di imperatore. Alle spalle dei battistrada rallenta il malice di Tobbianese, che viene fermato in casa sul risultato di 1 a 1 dal Montespertoli. Al termine una partita piena di emozioni. In rialzo le quotazioni del Viaccia, che centra la seconda vittoria consecutiva, superando il luco per 3 a 1 e confermandosi in piena zona playoff. Rallenta la Larcianese, superata di misura dalla Sestese. Decide nel finale una rete di torrente. In ripresa il Calenzano, che passa sul campo del Villa Basilica e si tira fuori dalla zona play-out. Buon pareggio anche per il Jolly Montemurlo, che esce in dengue dal terreno della Real Cerretese. In prima categoria il Prato 2000 e la nuova capolista, approfittando degli scivoloni di Mezzana e CF 2001. La squadra di Andrea Diodato mette la freccia e comincia la fuga. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e ben trovati con le previsioni mete a cura del Consorzio Lamma. Come possiamo apprezzare dal satellite, condizioni di alta pressione e tempo stabile, splende il sole su gran parte della nostra penisola, anche sulla nostra regione. Infatti continuerà a farlo per gran parte di oggi, anche se farà freddo, con temperature massime in lieve calo, non oltre gli 8-12 gradi centigradi. Domani mercoledì sarà una giornata all'insegna della variabilità, poco parzialmente nuvoloso mattinata, con rapido aumento delle nubi dalla costa verso l'interno. Farà ancora molto freddo al mattino, temperature in ulteriore calo, saranno diffuse le gelate su gran parte del territorio regionale, localmente e anche in prossimità della fascia costiera. Nel corso del pomeriggio, soprattutto in serata, aumenteranno le nubi su gran parte della regione, dalla sera precipitazioni sparse e anche nevose oltre 5-700 metri di quota, soprattutto in Appennino, ma anche attorno al Montamiata, sulle colline senesi. Temperature massime in ulteriore diminuzione, farà freddo non oltre 5-10 gradi centigradi. È tutto, a voi la linea. E questa era l'ultima notizia del telegiornale Termina Qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci.